Benvenuti a Tu per Tu, il viaggio introspettivo attraverso le parole dei miei ospiti. Il mondo dello spettacolo affascina tutti quanti, da sempre. Una vetrina mediatica all'interno della quale si riversano sogni, speranze, progetti e talvolta anni di sacrifici. Una volta lo spettacolo era l'uomo stesso quando era in festa. Adesso si ha bisogno per forza di una festa per avere dello spettacolo. Pensiero più o meno condivisibile, ma sta di fatto che oggigiorno la maggior parte di noi vive questo eterno sogno nella speranza di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Ho voluto utilizzare queste parole per introdurre l'ospite di oggi che per la sua esperienza e i suoi trascorsi darà valore aggiunto a questa puntata di A Tu per Tu. La scelta non è casuale, tutt'altro. Tutti noi lo abbiamo conosciuto sul piccolo schermo mentre impersonava il maggiore Aloisi nella serie televisiva Il Maresciallo Rocca e successivamente nel famigerato Dottor Geller in Camera Cafè. E naturalmente tante altre parti importanti in ambito cinematografico, televisivo, teatrale e radiofonico. E qui con noi Roberto Accornero. Ciao Roberto, benvenuto. Ciao. Grazie, benvenuti. Grazie a te. Allora, cominciamo con il tuo curriculum. Il tuo curriculum vanta molteplici partecipazioni in ambito cinematografico, teatrale, radiofonico e televisivo. Partecipazioni importanti con ruoli tutt'altro che secondari. Nonostante ciò il pubblico ti identifica e ti riconosce quasi esclusivamente per la parte che hai fatto del Dottor Geller e del maggiore Aloisi. A me questa cosa mi stranisce un po'. Come mai? Mi puoi spiegare perché? Anzi, non è difficile. Sono due programmi che hanno avuto una diffusione molto popolare, un grande successo. Cifre che addirittura non si possono più pensare per la televisione. Maresciallo Rocca è arrivato a 15 milioni di persone. Tra l'altro con lo stesso regista Giorgio Capitani abbiamo fatto anche Papa Giovanni XXIII. Forse quello era arrivato a 15 milioni, 15-16 milioni. Sono cose che non... quindi mediamente un italiano su tre non può non averlo visto perché i numeri sono quelli lì. Poi ci sono le... Io ero uno di quelli. Siccome replicano, quindi non... diciamo... televisione nazionale popolare. E poi era un ruolo, quello di Marciallo Rocca, che nasceva un po' di servizio. Ma Giorgio Capitani era un regista di grande finezza e di grande esperienza. E quindi mi sono trovato benissimo nel fare quel lavoro un po' delicato, che non sei un comprimario, ma ti si nota. E quindi... ma poi sono state una serie... è andata avanti per 12 anni, non tutti gli anni. Quindi sono state 6 serie, mi pare, arco di 12 anni. Quindi alla fine dai ridai. Poi appunto continuano a replicarlo perché c'è un problema di troppi canali. Quindi i palinsesti per forza devono essere ricicciati. Perfetto. Sono ben contento perché una delle poche cose che ci è rimasta in questo crollo di diritti e di... insomma, di soddisfazioni economiche, una delle poche cose che c'è è il diritto di replica, cioè il diritto connesso, che è una legge europea, per cui... Insomma, c'è un... Stiamo parlando anche di Camera Caffè comunque o solo della serie? No, stiamo parlando di Marciallo Rocca. Camera Caffè, diciamo che ha compensato un altro tipo di pubblico che forse non è lo stesso, diciamo, come età. Ecco, mettiamo che Camera Caffè è un pubblico, un'altra fascia di età e anche in un periodo più recente e quindi... I ragazzi mi riconoscono magari per Camera Caffè, ma non solo i ragazzi, adesso ormai la cosa è anche passata. E i signori e le signori, so, di una certa età più per il Marciallo Rocca. Poi le cose si mischiano, generalmente, ecco. Come è stato lavorare con Gigi Proghetti? Gigi Proghetti è un'ottima esperienza, nel senso che è un mattatore, è uno degli attori forse con più mezzi di tutti, credo che è esistente in questo momento, ha delle capacità illimitate, a volte il problema è proprio l'eccesso di... Infatti mi ricordo che Capitani aveva qualche problema a contenerlo, perché ci vuole anche la misura, che lui ha sempre una cosa da dire, da dare, ma nel linguaggio cinematografico, chiamiamolo cinematografico anche se è televisione, a un certo punto devi fermarti e anche se sei sempre nelle inquadrature, se sei troppo inquadrato, rischi una sovraesposizione che non aiuta il personaggio, quindi devi trovare la misura giusta. E vabbè, comunque, dicevo, Gigi ha il senso di squadra, anche perché è uno che ha sempre insegnato teatro, ha una grande generosità e ha fatto e insegnato teatro, che è la cosa più importante, e quindi non ha il concetto, come altri a volte hanno, di pensare solo a se stessi, credendo di ottenere un buon risultato in realtà, se pensi solo a te stesso e per forza lavori in una squadra, ci perdi anche tu, bisogna sempre pensare insieme, cosa che avviene per esempio in Camera Caffè, Luca e Paolo sono altri due bravissimi, possono avere un carattere un po' spigoloso, ma è dovuto al fatto che sono molto concentrati. Altri due mattatori. Altri due mattatori, sono molto concentrati su quello che fanno e sono attentissimi a quello che fai o non fai. C'è una competizione, c'è un'attenzione a fare tutti bene, ma loro sanno perfettamente che se qualcuno fa male ne risentono anche loro, quindi c'è questo senso di lavoro di squadra che è importantissimo. A volte ti può creare tensione perché sei sottoposto, anche perché Camera Caffè, loro leggevano molto il Go, perché è un prodotto un po' industriale, dobbiamo fare tipo a seconda delle serie, un tot di puntate al giorno, che vuol dire macinare, macinare. E che cosa c'è? C'è solo una telecamera, c'è solo una macchina da presa, se sbagli l'ultima virgola devi rifare dall'inizio, il che è molto stressante. Diciamo che i tempi erano anche diversi rispetto alla serie televisione, Maresciallo Rocca, molto più veloci, molto più incalzanti. Sì, è proprio un'altra situazione, da nessuna parte hai solo una telecamera e se sbagli devi rifare tutto. È come se fosse sempre un piano sequenza, sì, fatto magari di un minuto o due, però con queste parole, con questo ritmo che ci deve essere. Devo dire che all'inizio ero piuttosto stressato. E ripeto, avendo difficoltà di… perché ho gli occhiali, non ci vedo bene, sono un po' strabico, per cui io il Gobbo non lo potevo leggere. Non focalizzi. Ero costretto a sapere a memoria per forza e quando andavo sul Gobbo era una roba un po'… insomma non ci andavo quasi mai, quindi avevo quel vantaggio lì. A memoria è un muscolo, si tiene in allenamento. Sì, sì, io ne avrei bisogno. Poi per… non volevo rispondere alla tua domanda, come mai mi ricordano solo per quello? Sì, perché sono tutte le altre cose, non hanno avuto quelle repliche e non ho avuto quei ruoli da protagonista. Ho fatto dei protagonisti in certi film, all'inizio ero considerato l'attore emergente, da qualche parte, ahimè, il problema di internet è che rimangono le cose scritte. Magari vent'anni fa qualcuno ha scritto un attore emergente, poi hanno lasciato quella pagina lì, adesso io sono… la pensione me la danno a luglio e… Ma sei tutt'altro emergente. Sono più che un emergente direi un attore galleggiante. Sono riuscito a galleggiare, ecco. Parlavo pochi giorni fa, anticipavo il fatto che ti avrei intervistato e le persone quando sentivano il tuo nome dicono, ma chi è Roberto Accornero? Ma quello che ha fatto… Ah sì, poi magari facevo vedere la foto, allora ti ricordavo. A me la cosa straniva un po' perché faccio presente che non hai fatto solo quello, hai fatto anche teatro e soprattutto hai passato da speaker radiofonico e soprattutto doppiatore, giusto? No, allora, scusa se ti contraddico, speaker radiofonico no. Lavorato in radio, tra virgolette, sì. Ho detto l'attore, anzi ho cominciato proprio il rapporto con la Rai, è passato attraverso la radio, chiedo scusa, alla Rai di Torino per esempio c'è un ufficio scritture, ti chiamano insomma, l'ufficio scritture, e molti giovani attori che non avevano mai messo piede in Rai andavano in Rai e dicevano vorrei lavorare, e loro gli dicevano ma lei ha già lavorato in Rai? Dicevano no, e allora non può lavorare in Rai, cioè non ha lavorato quindi non può lavorare. Io ho avuto la fortuna di essere visto a teatro, in una cantina, in un teatro che cominciavamo, comunque professionisti, però avevo vent'anni, da l'unico regista o autore che andava fuori dalla Rai a cercarsi gli attori, e quindi mi ha fatto lavorare, che è Alberto Gozzi, e mi ha chiamato a fare l'attore in radio nell'81-83, una cosa così. Però ero poi scritto nel registro dell'ufficio scritture, quando venivano a fare la televisione, guardavano lì i giovani attori, chi c'era, e lì si sono aperte delle porte. Pescavano da quel boccino utente in storia. Ma solo perché lui, Alberto, ha rotto quell'abitudine che avevano i registi, andavano lì, dicevano chi avete, chi c'è sulla piazza, senza andare, lui invece andava in giro, curiosava, e si cercava, e ha beccato me, Paola Romani, da lì abbiamo iniziato, quindi non ho mai fatto lo speaker, ma ho sempre fatto l'attore. Una volta ho fatto anche il conduttore su Radio 2, quelle trasmissioni dell'ora di pranzo, in diretta, eccetera, che tu conosci bene, ma sostanzialmente questa figura che non c'è più, l'attore, non solo nei radiodrammi, ce ne sono stati di bellissimi, ma varie trasmissioni di giorno e di notte, con letture, a volte registrate, a volte in diretta, insomma la grande stagione della prosa che è finita per volontà... di terzi. Beh, quando hanno cambiato l'assetto della RAI, cioè hanno fatto le divisioni, hanno scoperto che la radio non era produttiva, cioè costava di più di quello che rendeva, è chiaro, un servizio pubblico. Aveva dei costi gestionali differenti, certo, normale. Quando era tutto un unico bilancio, tutto andava bene, quando hanno fatto le divisioni radio, tralicci, hanno settoriato, hanno settoriato, quella cosa, oddio, oddio, e hanno cominciato a crearsi problemi di audience, non sai come facciamo rilevare, perché in realtà hanno fatto, l'hanno smantellata, le sedi in Porta Torino, forse era la sede più importante, lo studio più grande, storicamente la prima sede era di radio, e questi studi e questi tecnici straordinari sono state fatte delle cose bellissime che si ritrovano ancora su YouTube e nelle teche, però è stata una stagione straordinaria. La radio è più legata al cinema di quanto ossia la televisione, c'è più rapporto tra radio... Ed è inflazionata in maniera differente, ovvio, normale. Come? Ed è inflazionata in maniera differente. In che senso? A livello di ascolti, a livello di seguito. Ah, sì, sì, però la radio ho notato, poche volte che incontravamo dal vivo il pubblico, tipo Radio Expo a Bologna nel 90, ma anche parlando, attraverso tutte le categorie sociali, interclasse, interculturale, ho trovato dei produttori di televisione che mi dicevano, ma sai che io ascoltavo la mattina, prima di andare a lavorare con gli americani, sul set, quel radiodrama, dove tu eri, il Cervo Bianco, il protagonista, anni dopo lo scopri. La sottile differenza tra la recitazione e l'interpretazione, due grandi doti che richiedono studio, sacrificio naturalmente e tanta tanta pratica. Ma non dimentichiamo la nobile arte dell'improvvisazione. Quanto conta questo requisito quando si recita? L'improvvisazione. L'improvvisazione è quel margine di libertà che ti prendi, però su uno schema dato su cui hai ragionato. È chiaro che in teatro c'è l'incubo dell'attore quello di arrivare sul palco e non sapere la parte, quindi devi sapere la parte. Una volta che sei a tuo agio ti ci muovi e quindi necessariamente c'è dell'improvvisazione se tu sei veramente presente. Che cosa è? Sintetizzando, la recitazione è sul palco e poi magari anche tutto in altri ambiti. È una questione di rapporti. Tu mi hai fatto una domanda, in realtà tu non stavi parlando a me, stavi leggendo. Infatti io ho avuto difficoltà a rapportarmi con te adesso, perché hai detto delle cose che dovrei magari rivedere. Però quando ci parliamo c'è un rapporto tra me e te, quindi in quel momento lì è un evento, è una cosa irripetibile e quindi mettersi veramente in rapporto ha a che fare anche con l'improvvisazione. Cioè essere presenti, che è un po' la lezione di Mastroianni. Non è difficile recitare, basta che tu sei lì in quel momento e fai quella cosa. Allora prendi. Se pensi, se ti sdoppi, se ragioni, se vai a memoria solo, se è meccanico, se non, insomma, se non sei lì... Se è un procedimento proprio meccanico, è diverso. È un'altra cosa. Quindi improvvisazione vera e propria non è tanto il mio genere, se non quando ho bevuto un bicchiere, ma non è il contesto lavorativo, perché purtroppo non si va. Quindi sfatiamo il mito che la gente improvvisa quando non sa la parte, quando se la dimentica. Beh, oddio, se sei in emergenza qualcosa devi fare, però o esci di scena o c'è il grande aneddoto di Tino Carraro quando facevano la televisione in diretta, a me è capitato di rifarla, ma come citazione, cioè l'hanno rifatta. Una volta la facevano proprio a televisione in diretta, lui non si ricordava la parte, a un certo punto... E allora i tecnici si sono spaventati, ha detto non funziona il microfono, lui poi si è ricordato e poi ha ripreso a parlare. Ma in quel momento lì non ricordava la parte, quindi faceva finta. Però comunque si è labiale e lo muoveva in maniera... E quindi ha messo in difficoltà gli altri, i tecnici, e poi grande... E quindi no, improvvisare fino a un certo punto, no, c'è sempre un lavoro, c'è sempre una situazione data, c'è un pensiero, devi capire, anzi, è meglio capire, tante volte le sceneggiature delle fiction non sono scritte bene, non perché non ci siano bravi sceneggiatori o dialoghisti, ma perché, ahimè, molto spesso sono l'ultimo anello di una catena di sfruttamento, dove manca l'autor... il problema della televisione è che manca l'autorialità, perché tutti mettono becco, non c'è più il produttore vero e proprio, ma sono produttori esecutivi che gestiscono pezzi di denaro, quindi non c'è, non viene rispettata spesso l'autorialità. E allora ti trovi a delle cose che non sono scritte, non le capisci, non sono scritte bene, quindi devi per forza lavorare sul testo, perché devi capire e devi fare delle scelte, piuttosto lo cambi, lo aggiusti, e io ho sempre sentito un senso di responsabilità, perché a volte è capitato di fare il medico o il giudice o cose, ma quando facevo il medico dici delle cose, poi per come è strutturata un po' la televisione italiana tutto viene preso sul serio, ma giustamente se dici delle cose possono avere anche degli effetti su chi le vede. Perché la gente ti crede, la gente ti crede, come succedeva già con Alberto Lupo quando faceva il piccolo Cittadella, ma a me addirittura in una conferenza stampa una tipa che doveva essere una giornalista, dopo che abbiamo presentato era camici bianchi, io facevo lo psichiatra e c'era una serie di medici in una clinica e quella mi è venuta a chiedere delle cose di psichiatria, cioè di rapporto col padre, io trasecolavo, perché dico, ma era una cosiddetta giornalista, perché o era venuta lì per il buffet, ma mi è successa questa cosa qua, a maggior ragione, questo è un incidente, un paradosso, però ho senso di responsabilità e comunque è un lavoro che si fonda sulla bugia, ma in realtà è più vero di altri, cioè bugia nel senso che tu fai finta di essere qualcun altro, però specialmente a teatro è uno dei posti più veri che ci siano, perché tu sei lì che ti metti in gioco col corpo. Infatti molti sostengono che l'attore di teatro sia più vero rispetto a un attore di cinema. Beh, in teoria sì, e comunque quel momento lì è vero, poi uno può anche nascondersi dietro la ripetitività, può, 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 se non è un bravo attore può usare dei mezzucci, però tu sei lì e... Perché sei a contatto con il pubblico. E il pubblico influisce, il pubblico è una parte dello spettacolo, perché se, a seconda di come reagisce, cioè si crea, si crea una tensione, cioè c'è un triangolo. E molti sostengono che il pubblico del teatro sia una grande comunità che interagisca direttamente con l'attore in maniera empatica, quindi si è lì, vis a vis, quindi le emozioni. E' quello che sto dicendo. E' quello che sto dicendo, sì, sì. C'è un, un proverbio africano che dice che il dialogo fa crescere la famiglia. Cosa ne pensi? Dunque, la famiglia per me è un problema perché non sono mai riuscito a gestire bene le famiglie e con il nostro lavoro, non so, sarà che siamo sempre fatti un po' a pezzettini, dobbiamo essere con la te, cioè sei in casa ma non ci sei e sei in casa bisogna stare tranquillo, hai la preoccupazione del lavoro che non c'è, quindi la routine, il gestire, quindi è sicuramente vero che il dialogo è fondamentale ed è una cosa su cui ho insistito nelle varie, nei vari tentativi di mettere su famiglia o comunque di farmi accettare con i miei difetti e le mie necessità e nonostante sono due figlie però due madri diverse e adesso sono di nuovo da solo però è quello che mi interessa avere rapporti con queste, cioè veri, con... dialogo dialogo è il discorso che passa non passa il dia cioè logos dialog non passa il dialogo se non c'è l'ascolto se no sono dei monologhi che a volte possono essere interessanti ma il più di volte non lo sono. Galeotto fu la frase che disse noi siamo nati con due orecchie e una bocca principalmente per ascoltare poi per parlare quindi dirò di più nel lavoro dell'attore e mi riferisco particolarmente all'esperienza con Giorgio Capitani il maresciallo Rocca e il Papa Giovanni dove facevo anche una piccola parte ma con un grande attore che è Ed Asner quello di Lou Grant un mostro di Hollywood tra l'altro capo del sindacato un ebreo di sinistra una persona straordinaria è venuto lì che aveva dove fare l'operazione all'Anca non l'hanno fatta lui ha lavorato un mese con sto male qua però sempre sorridendo siamo andati giravamo in Bulgaria perché si costa di meno andare all'est e nel carcere vero nel vero carcere di Sofia la scena in cui Papa Giovanni diceva delle cose lì l'ascolto allora io lì avevo non parlavo c'era il discorso di Ed Asner di Lou Grant del Papa e io ero lì di fianco però a un certo punto il discorso era molto lungo io ero di fianco non dicevo una parola però mi hanno detto tutti che quella cosa è stato un terreno di prova ascoltare quello che lui diceva è un'azione e tu reciti tu devi essere ecco anche il maresciallo Rocca il ruolo di servizio devi esserci anche quando non parli è più facile come presenza ma cosa vuol dire vuol dire che devi seguire deve essere in rapporto devi ascoltare devi pensare devi ragionare magari puoi anche pensare un'altra cosa però devi pensare è velo scenico in gioco di sguardi un suggerimento che do perché è una cosa che viene sottovalutata dai ragazzi che cominciano non devono essere preoccupati della loro battuta quanto della battuta degli altri anche perché più delle volte dopo la battuta arriva la presenza statica stanno fermi esatto sempre molto il rapporto quello che fanno gli altri ascolto quello da presenza da forza Roberto tante esperienze cinematografiche il piccolo schermo tante teatrale radiofoniche ma Roberto a Cronero chi è nella vita di tutti i giorni l'ultima compagna dopo vent'anni mi ha detto tu sei un bluff io ci ho ripensato e ha detto si può darsi che sia un bluff ma lo sapevo fin dall'inizio e l'ho sempre detto nel senso che non mi sono nascosto quindi non so esattamente chi sono il lavoro di una vita e capire chi si è e che cosa si vuole cioè costruire una personalità io l'ho fatto anche a pagamento nel senso che ho costruito una serie di personalità ma non erano mai le mie ma inevitabilmente c'era un po' di me quindi è bello perché si indaga anche su se stessi facendo vedendo fino a dove puoi arrivare è vero che si tende a bluffare io da ragazzo ho cominciato mi hanno iscritto siccome ero nato a marzo frequentavo i ragazzi che avevano un anno più di me ero il più piccolo quindi questa cosa qua sembra una cosa da poco ma è fondamentale mi sono sempre sentito da un lato in inferiorità fisica e che ho cercato di compensare un po' col bluff quindi facevo il furbo ero magari più mi occupavo più di cose non di forza fisica ma sull'arguzia sulla battuta insomma è così me le davano cioè le prendevo ero sempre quello che soccombeva però su altri fronti ero più il furbo ero quello che sfotteva le cose che me lo sono portato un po' dietro questo personaggio per cui mi sento un disadattato sociale sì generalmente che nasconde la propria timidezza però adesso vabbè sono passati un po' di anni mi sto un po' accomodando sono un po' più tranquillo però uno che non ha capacità di rapportarsi molto se non in determinate situazioni e soprattutto da quando ho cominciato a lavorare non sono più riuscito a dire bugie nella vita prima le dicevo da ragazzo adesso le dico solo a pagamento e quindi mi scopro e quindi non riesco ad avere quelle strategie che magari a volte una bugia può essere utile e quindi mi scopro sempre con le mie debolezze e le mie si sa che a volte ci vestiamo delle maschere che non ci si addicono perché la vita è tutto un film lo dicevano i nomadi quindi assolutamente la maschere quindi la fin fine è proprio la sottile differenza tra la bugia e una verità una bugia detta bene magari una verità detta male ma cerco di essere sincero con le mie figlie anche se ogni tanto bisogna qualche strategia bisogna adottarla però cerco di essere sincero a volte l'eccesso di sincerità può essere anche pericoloso però insomma il compito dei genitori è di dire come stanno le cose nel modo giusto ecco magari non la brutalità parlo anche di aiutare i ragazzi a stare e entrare nel mondo che io stesso faccio questo lavoro su di me non è detto che ci sia uscito una sorta di viaggio introspettivo vero e proprio però ti ritieni soddisfatto fondamentalmente al di là dei mille sacrifici che hai fatto e del prezzo alto che hai pagato perché mi viene da pensare che insomma sono la base di quello che mi hai detto ma guarda io l'ho fatto se devo dirti la verità questo lavoro più che scegliere è stato un po' inerziale infatti all'inizio studiavo facevo l'università restauravo mobili e facevo l'attore facevo il restauratore tre cose si studiavo cose di spettacolo e di arte tutto insieme ero tutto un po' mischiato a un certo punto ho dovuto smettere un po' di cose e ho chiesto a Gregoretti che era il primo che cominciavo a fare delle cose in televisione se secondo lui avrei potuto fare l'attore e lui mi ha detto secondo me sì perché non sapevo bene conoscere all'inizio ho fatto dei film che mi sono venuti anche bene perché con Cotafavi per esempio una cosa diavolo sulle colline tratto da Pavese dovevo fare me stesso e lì è stata una bellissima esperienza cinematografica e mi ha illuso che fosse facile fare il cinema sì lo è nel momento in cui sei scelto per la parte giusta ma infatti il lavoro importante è del casting e ho perso il filo che cosa stavo dicendo ti ripendo io ci dai qualche piccola anticipazione ah ma è la mia carriera è in declino comunque sto partecipando a una fiction che mi permette di dire una cosa che mi dà un po' di speranza per il futuro ultimamente ho lavorato con dei registi giovanissimi addirittura uno adesso si è scritto alla scuola adesso lo hanno preso al CSC alla scuola di cinematografia di Roma ma prima aveva vinto under 18 ha cominciato da 13-14 anni in casa a montare delle cose una vera e propria passione sì ed è un ragazzo con un'intelligenza superiore alla media però ce ne sono tanti ce n'è più d'uno infatti i suoi compagni di corso adesso mi ha chiesto di fare un corto fa delle cose di livelli di qualità di grande qualità di attenzione una fiction sto facendo adesso che si chiama Il processo con la Puccini dove faccio un magistrato che è antitetico a lei insomma lo solito personaggio sgradevole registra non ha 40 anni ed è il più bravo di tutti gli altri che ho visto recentemente comunque è bello interfacciarsi con persone più giovani mi piace tantissimo che ci sia proprio uno scambio un dialogo mi piace tantissimo io mi sento un ragazzo dentro e quindi sono ben contento che loro possano usufruire cioè possono mettere a frutto questa maturità questa cosa e sono mi piace tantissimo mi trovo bene io ho voluto appositamente concludere questa puntata di A Tu Per Tu che chiude ovviamente il ciclo di questo format televisivo con Roberto Accornero per dare valore aggiunto a tutto quanto naturalmente io ringrazio tutti quanti per averci seguito ringrazio tutto lo staff di OBTV News direzione in testa tecnici e tutti quanti e naturalmente il grande pubblico che ha dato consenso a questo piccolo grande format ringrazio naturalmente Roberto grazie di aver chiuso questa grande puntata è un piacere signori che vi devo dire magari alla prossima buona giornata da Fabrizio Carbone e Roberto Accornero ciao